Mi chiamo Paolo e due anni fa mi sono laureato in Bola Medical Sciences all'Università dell'Insubria. In questo momento sto lavorando per un'AMG italiana che si chiama Comunità di Sant'Egidio, in particolare per il progetto DREAM, che è un progetto nato nel 2002 in Mozambico con l'obiettivo di garantire ai pazienti HIV un trattamento gratuito e soprattutto una diagnostica avanzata della malattia. Per farlo sono stati allestiti dei laboratori di biologia molecolare. Oggi sono più di 20, dislocati in una decina di stati africani, che permettessero di seguire in modo preciso l'andamento della malattia. Ad oggi il progetto si occupa non solo di diagnosi cura di HIV ma anche di altre malattie come tubercolosi, diabete, ipertensione e anche epilessia. Il mio lavoro prevede dei periodi di 2-3 settimane in Africa, in cui mi occupo di formazione del personale locale che lavora in questi laboratori e di supervisione del lavoro svolto. Supervisione che è possibile fare anche nei mesi in cui sono qui in Italia, grazie a dei software che permettono di accedere al lavoro di questi laboratori. Mi reputo molto fortunato ad avere la possibilità di fare questo lavoro perché mi permette di vedere realtà molto diverse, come potete immaginare dalla nostra, con problemi diversi, ma in cui si cerca di portare gli stessi standard qualitativi che abbiamo qui. e questo credo sia molto bello. Quello che vorrei aggiungere è che sicuramente durante il mio percorso di studiare in Subria ho trovato un ambiente molto positivo e propositivo, con professori molto disponibili, che mi ha aiutato a mettermi in gioco e a capire quello che avrei voluto fare. Un caro saluto e buona fortuna per le vostre scelte future. Ciao a tutti!